Lì dietro c'è una stalla, una bella alberatura e un bel prato. Cosa vi viene in mente? A me viene in mente che a breve, dopo tanto insistere, l'allevatore farà un paddock barrapascolo per le manze. E qui vedete i primi sintomi dell'attività in corso. Vedremo nelle prossime settimane cosa saranno in grado di realizzare. In termini di recinzione, abbeverata, ripari e foraggiata nella eventualità in cui le manze che entreranno in questo paddock dovranno appunto alimentarsi. Vedremo cosa è capace di fare l'allevatore e poi vi trovo aggiornati. Ciao a tutti! Attenzione alla sorpresona, si apre il sipario e... Eccolo! Un bellissimo paddock esterno appena preparato dall'allevatore. Avete visto nell'ospezione precedente del video il progetto in corso di realizzazione o quantomeno di cogitazione. È stato realizzato questo recinto elettrificato con circa 400 euro. Alcune chiose chiaramente sono state comprate nuove, come queste paline, ok? Che chiaramente sono state infisse all'interno del terreno e questi cavalletti isolanti. Chiaramente il filo elettrificato. Mentre per quanto riguarda l'abbeveratoio, da un tubo o tre quarti sono stati fatti gli opportuni collegamenti ed è stato realizzato con una di queste cisterne, mediante un galleggiante e una valvola, è stato realizzato l'abbeveratoio. Vedete, per proteggere l'abbeveratoio è stata messa questa scatolona di acciaio all'interno dell'abbeveratoio in modo tale che le bovine non vadano a distruggere quello che è il galleggiante. Quindi sarà un paddock esterno di circa, direi, occhio e croce, 40 per 15 metri, 600 metri quadrati. Dalle feci si vede che hanno già potuto accedere all'esterno, c'è un'alberatura sulla sinistra e anche un bell'albero a destra. Stamattina sono le 10 e non sono ancora venute al pascolo. Per poter accedere all'interno del recinto è stato messo un cancella molla. Chiaramente l'allevatore ha messo poi anche i cartelli che indicano che questo filo è elettrificato. Per parlare di costi, allora, i costi sono stati accennati circa 50 cavalletti di plastica isolati, sono circa 15 euro, la beveratoio, le valvole, le tubature 15 euro di valvole e una cinquantina di euro di altre cose. I pali in legno, quelli saranno costati forse un po' di più e il trasformatore di corrente intorno ai 150 euro. Andiamo a vedere adesso se le manze hanno voglia di uscire all'aperto, visto che è una bella giornata di sole, sono le 10 del mattino e c'è anche fresco perché comunque un po' di nuvolaglia stratificata, un po' lontana c'è e hanno messo in arrivo la perturbazione. Sa, 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 dai, fuori, cappa, ta, 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 non lo so se hanno voglia di venire fuori. Comunque sostanzialmente loro possono accedere ai box interni, che sono interni di quel capannone lì, ma essendoci delle ventole all'interno è probabile che durante la giornata stiano all'interno. L'allevatore ha citato appunto che ieri sera alle 10 erano tutte fuori, stamattina alle 7 erano tutte fuori. Chiaramente per non rovinare questo paddock bisogna richiamarle nel momento in cui dovesse piovere abbondantemente, cosa peraltro abbastanza rara d'estate. Quindi direi che è stato fatto un ottimo lavoro, soprattutto al risparmio. Si possono fare dei recinti anche meno, diciamo, elaborati. In questo caso lui ha voluto, diciamo, utilizzare delle palline di legno, infisse per una bella quantità di centimetri all'interno del terreno per dare una struttura stabile. Chiaramente il recinto elettrificato porta gli animali subito a conoscerlo i primi giorni e queste si autoregolano per non scappare. Sa, 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 bella, sa, vena qua, vena, su, su. Vediamo un po', vedete il comportamento. Loro sono comunque animali curiosi e tendono a venire. In questo recinto è stato inserito un altro cancello per poter entrare, diciamo, con alcune strumentazioni, con mezzi agricoli e in questo caso l'allevatore ha preferito mettere anche dei palli di legno più che altro perché se una persona si vuole appoggiare, diciamo, si può appoggiare senza prendere la scossa. Quindi ha anche allargato la porta del capannone, a dire la verità, mettendo appunto, tagliando quello che è il muro, che è un muro non portante. Quindi pensate un pochettino all'interno della vostra realtà aziendale come potete costruire un recinto esterno. In questo caso il vantaggio di questa alberatura di Pioppi ha fatto sì che lui potesse sfruttare anche, diciamo, gli alberi come portatori del filo elettrico. Molto bene, ottimo lavoro, facciamo un plauso all'allevatore e vedremo un pochettino nelle prossime settimane come si comporteranno queste bovine in questo paddo che è soprattutto quello che sarà il calpestio e quanto si rovinerà a fine stagione questo breve appensamento di terreno. Il mio consiglio è stato quello di ampliarlo nel senso che lui potrebbe arrivare ad ampliare tutto il recinto fino in fondo alla strada che vedete alla fine di questo campo e vedremo se nei prossimi mesi lo farà. Saluto a tutti, da me e dalle manze al pascolo, ciao, Mauro Marniroli, Centro Veterinario San Martino. Ciao, ciao!